Ci tenevamo a far vedere che cos'è poi un bacino di laminazione a cassa di espansione, che non è altro che un serbatoio artificiale che lascia spazio ovviamente ai prati quando non c'è o non ci sarà l'acqua e quando piove ovviamente diventa un grande serbatoio che mette in sicurezza le città. Noi ne abbiamo già programmati più di una diecina, alcuni sono finanziati e quindi la prossima stagione sarà quella ovviamente dei cantieri che sono già iniziati in alcuni casi come a Caldonio. Ci interessa ricordare che anche questo bacino, quello di Montebello, è oggetto di un ampliamento, quindi passerà da 6 milioni di metri cubi a 10 milioni di metri cubi per un totale di 153 ettari e 53 milioni di investimento. Ieri ho incontrato il Presidente Letta, peraltro una convocazione repentina che c'è stata, ho portato i dati della tragedia del vento, che è un'autentica tragedia, ricordo che ha piovuto di più del 2010, ricordo anche che questa tragedia si somma una tragedia che è quella della montagna, una montagna che in queste ore magari è dimenticata, ma che vive ovviamente i disagi e la catastrofe pari a quello che è accaduto negli allagamenti nella pianura. Ovviamente la risposta è stata quella che noi potremmo considerare un po' del cerimoniale di corte, non ci sono soldi, i bilanci dello Stato li conoscete tutti e li conosciamo, però sappiamo anche che in quei bilanci ci sono 21 miliardi di euro di tasse di veneti che ogni anno si versano, per cui per noi la partita non è chiusa. Abbiamo dato 5 giorni ai sindaci per un primo censimento dei danni, seppur spannometrico, danni ai privati e danni pubblici. Voglio ricordare che questa alluvione si caratterizza in particolar modo per i tanti danni, alla viabilità, a smottamenti, frane e quant'altro, che avranno dei costi inimmaginabili nel recupero. E dopo di che, dopo questa prima contabilità, riusciremo ad avere una cifra certa. Certo è che questa alluvione è una alluvione che ha la dimensione del 2010 per danni e per l'impatto che avrà sull'economia. 500 milioni almeno? Io penso che siamo su quell'ordine di grandezza, visto e considerato che questa alluvione è caratterizzata dai danni alle infrastrutture e le infrastrutture costano, cioè mettere in sicurezza delle strade che sono di fatto deformate e non più utilizzabili, recuperare strade che prima c'erano e oggi non ci sono più. Penso che quelle in zona di Frana costano molto di più che magari intervenire sulle singole posizioni delle singole famiglie.